Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! XIODERONE! Il mio consiglio ragazzi come avete appena visto è provate ad hittarli in lobby Una volta questo funzionava ragazzi Hittandoli in lobby dovrebbe comunque assegnarvi la missione Qualora non riusciste in lobby e non voleste rischiare di perdere magari qualche fight durante un game Allora prendetevi una mezz'oretta di tempo non di più e giocate la modalità rissa a squadra In modo che comunque anche se lanciando il gavettone non lo colpite ma venite uccisi potete tranquillamente rigenerarvi Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video Un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale Noi ci vediamo fra un po' in live Ciao! Ciao!